Venerdì prossimo una bella iniziativa organizzata dal distretto Lions. Come invecchia il cervello? Come mai questa scelta? Il nostro socio Emilio Camaiora, che poi intervisterete, si è impegnato veramente a fondo per avere la disponibilità del professor Garattini, che in questo campo è una vera autorità. Ed è un'iniziativa che serve a insegnare alla gente che il cervello invecchia, insegnare, comunicare, far sapere che il cervello invecchia e c'è un modo per cui invecchia che può essere migliore o peggiore. È un servizio, diciamo, culturale, in cui i Lions sono impegnati, perché noi lavoriamo su vari fronti. Lavoriamo sul fronte del bisogno e lavoriamo sul fronte culturale, che poi è un'altra forma di bisogno, anche se vogliamo. In questa occasione, devo dire che siamo riusciti, sarà un importante avvenimento, perché, appunto, per merito della presenza di questo luminare, che molti di voi avranno già spesso visto in tv e quando lo vedranno lo riconosceranno al volo. Ecco, un incontro ovviamente che non è riservato ai soci del Lions, ma aperto a tutti. No, anzi, sono benvenuti tutti coloro che vogliono intervenire. Abbiamo cercato di diffonderlo in maniera più larga possibile, abbiamo messo locandini, abbiamo inviato inviti. Contiamo sulla presenza dell'autorità, ha promesso il suo intervento anche il signor Sindaco e il Vescovo. E quindi speriamo soprattutto sulla partecipazione da parte della popolazione. Ecco, quando e dove è questo evento? Si svolgerà qui, presso la Sala San Francesco di Sales di Tene Liguria Sud, alle ore 17 del 6 aprile. Grazie.